Noi, la Federazione Galattica di Luce, siamo la saggezza dietro i letti medici che stanno già curando gli esseri umani sul vostro pianeta Terra durante questo fortunato periodo di transizione. Verrà il momento in cui questi letti medici saranno a disposizione delle masse. Molti di voi stanno attraversando il processo di ascensione da un po' di tempo. Momenti di ascensione individuale o momenti di beatitudine, come potete percepire, si uniscono per diventare la totalità. Ogni istante in cui scegli la luce ha un profondo effetto sul tuo corpo, sulla consapevolezza umana, e su Gaia. Con questi maggiori cambiamenti dimensionali, stiamo vedendo gli esseri umani diventare più compassionevoli e premurosi. Questo è eccellente. Sei più attivato da questa energia proveniente dal grande Sole centrale. Molti di voi sono curiosi di conoscere i letti medici e di come potrebbero aiutare l'umanità ad ascendere in questo momento. È un argomento intrigante e che molte persone chiederanno. Molte persone saranno riluttanti a usare le proprie capacità di guarigione, perché sono state condizionate da quello che è stato loro insegnato, ovvero a temere ciò che potrebbe aiutarle di più. È un resè, un potenziamento, uno svanire delle malattie e delle predisposizioni genetiche all'interno del genoma umano, che si sono trasformate in malattie. Potresti pensarlo come l'eliminazione di un programma, o la rimozione di un virus dal tuo computer. Gli esseri umani saranno illuminati da luce, amore, pace e chiarezza. L'umanità si risveglierà a livello superiore di luce che già esiste all'interno dei loro corpi. I letti medici resettano semplicemente il DNA della persona. Questo è tutto ciò che c'è da fare. Tutte le malattie, le cicatrici e i disturbi esistenti, saranno sostituiti con una forma di salute di dimensioni superiori, e tutte le anche le articolazioni sostitutive saranno curate e perfette. Molte di queste strutture sono a nostra disposizione. La maggior parte delle città galattiche li ha, e li troverai a bordo di molte delle navi della nostra federazione galattica. Puoi usarli mentre dormi, non solo per guarire o resettare, ma anche per ottimizzare e ricalibrare il tuo DNA. Ci sono molti modi in cui i letti medici sono molto utili se utilizzati per i processi di guarigione quantistica del corpo, della mente, e dell'anima. I letti medici possono essere sintonizzati su varie frequenze per facilitare obiettivi di guarigione e mirati. Ad esempio, il trauma richiede una durata di guarigione più lunga e regolare, piuttosto che breve e intensa. In primo luogo è ipotizzabile che i valori dimensionali inferiori non ti siano mai stati utili. Tuttavia, sono stati introdotti nelle vostre frequenze genetiche, e ora si stanno rendendo conto che devono essere eliminati. Comprendiamo la rabbia e il conflitto che stai provando. A scopo curativo, riempila di luce. Non sarai più preso di mira. Questo non è più il caso. Questo esperimento senza restrizioni è stato principalmente a beneficio del buio, i controllori. Questi ultimi vengono eliminati perché non vogliono essere ricondizionati e ripristinati nella luce, pertanto, hanno scelto l'eliminazione. Non sono più una tua preoccupazione. È arrivata la luce. I letti medici sono magnifiche opere d'arte e tecnologia avanzata. Poiché siamo circondati da vibrazioni celesti, scegliamo di utilizzare la nostra conoscenza per promuovere salute, benessere, armonia e completezza. Per il completamento di questo enorme sforzo di modificazione genetica, in modo che gli individui che sono stati ridotti in schiavitù possano essere liberati, ed esplodere alla luce del loro più grande potenziale nel loro corpo fisico. Quando sarà il momento di entrare e goderti il processo di ringiovanimento di un letto medico? Ti sembrerà familiare. Abbiamo enormi camere sulle nostre navi luce piene di migliaia di gusci di lavanda lampeggianti, a volte vibranti che sembrano essere vivi. Sono leggeri e morbidi all'interno, come il letto più comodo su cui tu abbia mai dormito. Ci sono diverse lunghezze d'onda in riproduzione. Ti sentirai completamente a tuo agio, e intrappolato in un contenitore di luce, musica e amore. Se sei un guerriero della luce a cui è stata assegnata una missione specifica, che comporta molte responsabilità, potresti essere assegnato ad un contenitore con un colore particolare, e sarai in contatto con la tua capsula. Ti riconosce. Questo è il tuo letto medico. Poiché è energeticamente connesso a te, conosce i tuoi lignaggi genetici, i tuoi traumi, i ricordi, il tuo scopo, e, in definitiva, corrisponde al tuo progetto e ai tuoi bisogni per portare a termine la tua missione. Potresti aver avuto precedenti incarnazioni in cui le impronte potrebbero aver lasciato il segno. I letti medici guariranno con la luce, facendo vibrare tutto il tuo corpo, e una melodia si alzerà e unirà le tue cellule a una frequenza maggiore. L'armonia è una tua scelta. L'ascensione è una tua scelta. Il tuo DNA viene aggiornato davanti ai tuoi occhi. Sei un creatore con poteri divini intrinseci, come questo contenitore, puoi guidare la luce nei luoghi che ne hanno più bisogno. Ti aiuterà dimostrando dove devi cambiare la tua consapevolezza, per consentire a quella parte di te di crescere e guarire. E mentre guarisci attraverso la capsula, impari come funziona il processo, e che non hai bisogno di una capsula per muoverti e dirigere l'energia. Stendersi in una capsula medica, è come essere avvolti da una coltre di luce di varie sfumature, ognuna delle quali corrisponde alla frequenza di vibrazione necessaria per riparare la memoria. È una sinfonia di musica e luce. È tranquillo e familiare una volta che fai entrare la luce. Questo lieve senso di completezza, è rassicurante. Dopo una sessione su un lettino medico, il tuo corpo si sente più leggero, più luminoso e forse anche un po' traslucido. I capelli possono crescere più lunghi e potrebbero anche essere un po' più alti, più regali e più completi. È una sensazione incredibile. Il rapporto carbonio-cristallino, cambierà ad ogni sessione. Incoraggiamo tutti gli operatori di luce che leggono questo, a invocare la Federazione Galattica attraverso le loro intenzioni, e lo spazio del cuore. Che dici di portarti sulle nostre navi mentre dormi, per una sessione su un lettino? Quando lo fai, potresti ricordare che non è la tua prima visita. Eri molto piccolo, l'ultima volta che ci siamo incontrati per questa esperienza. Ti amiamo teneramente, siamo qui con te, siamo la tua famiglia di luce. Siamo la Federazione Galattica. AO, Aurora Ray, ambasciatore della Federazione Galattica. Per favore condividi.